Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. È terminato questo weekend senza Serie A e ora iniziamo ad addentrarci all'interno di questa settimana che finalmente ci riporterà la nostra cara e amata Juventus. Devo dire la verità, mi è mancato perché quando ti danno un pezzettino di uve e poi te la tolgono è come se tu arrivi con tanta fame dopo un'estate senza calcio, arrivi con tanta fame, ore di pranzo, ti portano due maccheroni, te li fanno mangiare, poi te li portano e ti dicono il resto te li porto fra un paio d'ore. Ma no, ma scusa, ma io fammi adesso, li voglio adesso, dove vai con quei maccheroni, fammi mangiare. Ecco, questa è un po' la sensazione. È servito perché abbiamo scaricato un po' di giocatori in giro, è uscito anche Kostic, è andato in Turchia quindi rimane soltanto Arthur all'interno della Juventus a livello di esuberi e quindi cerchiamo di fare un po' la panoramica generale di quelli che sono i giocatori, la rosa completa della Juventus e cerchiamo di indovinare quante presenze e quanti gol faranno in Serie A in questa prima annata sotto Tiago Motta. Se siete tutti pronti possiamo iniziare, io come al solito vi chiedo un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale e nel commento andate a scrivere secondo voi quali saranno i numeri della Juventus. Vi faccio subito questa domanda per iniziare il video. Quanti gol faremo in Serie A e quanti gol subiremo in Serie A? E se volete anche quanti punti, poi io cerco di farvi la mia prediction. Ho già preparato tutto, quindi possiamo immediatamente cambiare la nostra grafica, andiamo sul nostro file Excel precompilato e vi dico subito le presenze e i gol subiti dai portieri perché ho già preparato tutto quanto. Per me Di Gregor giocherà 33 partite, per 5 volte invece vedremo Perin al suo posto e una volta Pinsoglio, magari nell'ultima giornata di campionato. Pinsoglio prenderà un gol, Perin ne prenderà 3, Di Gregorio ne prenderà 21. Per un totale di 25 gol subiti da parte della Juve. Ora, 25 sono pochi. Io vi invito sempre prima di andare a fare questo tipo di commento, prima di andare a dirmi la vostra, di andare a fare un paragone anche con quelle che sono state le squadre degli anni passati e le Juventus in generale degli anni passati. 25 gol sono pochi. Per me la Juve potrebbe essere una delle migliori difese di Serie A se non la migliore difesa di Serie A. E già questo è un gran dato che vado a comunicarvi per farvi capire quella che secondo me potrebbe essere la stagione della Juve. 25 gol subiti sono pochi. E solitamente quando subisci pochi gol in Serie A significa che la stagione che vai a fare è super positiva. Non significa sempre vincere al 100%, però secondo me l'Inter potrebbe essere la squadra con la miglior difesa e la Juventus quella che si avvicina un po' di più. Però 25 gol subiti sono pochi. Me ne rendo conto, però credo che dal punto di vista difensivo la Juve potrà fare una grande, grandissima stagione. Poi voglio mostrarvi tutto in blocco i difensori. Bremer 35 partite sarà la colonna portante della Juventus con tre gol segnati. Su Piazzato sappiamo bene che Bremer e Gatti sono due giocatori importanti e secondo me tre gol Bremer li porterà a casa. Danilo soltanto dieci presenze e una rete. È venuto fuori anche un discorso legato al rinnovo di contratto di Danilo che potrebbe esserci una clausola con tot presenze, un rinnovo automatico come era stato con Alexandro, con Scesni. Negli anni passati, quindi attenzione che potrebbe esserci un ragionamento di questo tipo alla base dell'esclusione di Danilo. Secondo me questa cosa andrà a impattare anche tanto sul giocatore e verranno preferiti altri profili. Io oggi vi dico che per me ne giocherà soltanto dieci e sono poche, sono pochissime. Perché Danilo potrebbe benissimo, secondo me dal punto di vista fisico, farne una trentina. Oggi sono un po' pessimista da questo punto di vista. Credo che Danilo sarà, tra virgolette, molte virgolette, però un caso per questa Juventus perché effettivamente è il capitano. A inizio stagione vi avrei detto Danilo ne gioca tante, Gatti ne gioca poche. Oggi invece mi trovo costretto a invertire questa tendenza. Proprio per la fiducia che ha dimostrato di avere Tiago Motta nei confronti di Gatti dato appunto da non solo metterlo titolare ma pure dargli la fascia di capitano e con la freddezza con cui ha tenuto fuori Danilo per praticamente tutto questa prima parte di stagione bianconera facendolo entrare soltanto pochi minuti a Verona. Quindi Gatti andrà a collezionare 30 presenze e segnerà 3 gol al pari di Bremer. E capite già che a questo punto siamo soltanto all'inizio, stiamo parlando soltanto dei difensori ma abbiamo già un primo grande scoglio perché questa è una scommessa e allora la scommessa alla luce di quello che ho visto vi dico va in questa direzione. Gatti valorizzato, Danilo lasciato da parte per cercare di non avere delle dipendenze legate a un rinnovo di contratto che la Juventus potrebbe non voler fare. È qualcosa di peso, è veramente pesante perché stiamo parlando del capitano della squadra. Capitano della Juventus che secondo me sarà uno dei difensori che farà meno presenze in assoluto in questa stagione, in Serie A. Soltanto in Serie A si sta parlando. Calulu, 18 presenze e 0 gol. Anche qui bisogna capire che tipo di stagione farà Calulu o che tipo di approccio vorranno dare a Calulu perché secondo me potrebbe esserci un po' di rotazione lì sul terzino destro tra Savona, Calulu, lo stesso Danilo, magari Cambiaso che gioca a destra con Cabal che gioca a sinistra, terzino destro mi sembra un po' un ruolo adattabile in cui non avremo una sorta di vero e proprio titolare fisso ma avremo tanta rotazione. Calulu, 18 presenze appunto con Cabal che invece ne farà 29 perché invece a sinistra vedo Cabal molto più portato ad essere utilizzato con continuità quindi con Cambiaso che poi andrà sulla destra anche perché Cabal è un giocatore che la Juve ha già acquistato a titolo definitivo Calulu è un giocatore preso in prestito con un diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni quindi ci sta che nella testa della Juventus di Tiago Motta si stia cercando di dare un po' più priorità a un giocatore che invece è già tuo dove non dovrai andare ad aggiungere altri soldi non dovrai fare altri tipi di ragionamento è già tuo, lo devi soltanto valorezzare e farà un gol Cabal secondo me lo vedremo molto più versione uomo assist Cambiaso 32 presenze quindi un altro di quelli che sarà veramente un insostituibile vedo Bremer, Gatti e Cambiaso bene o male come insostituibili più tutti gli altri che andranno un po' a ruotare con tre gol segnati, uno l'ha già fatto in casa contro il Como a giro per chiudere la pratica quindi altri due gol in stagione per Cambiaso me li aspetto Savona 15 presenze e due gol quindi un altro gol dato che uno è già all'attivo e lui invece quello utilizzato un po' di meno con soltanto 6 presenze quindi vi ho raccontato quella che secondo me sarà la struttura difensiva della Juventus Bremer, Gatti, titolari anche perché secondo me è sempre difficile andare a cambiare i due centrali titolari cioè tu devi avere le idee chiare su quelli che sono i centrali è veramente il ruolo più delicato in una squadra di calcio bisogna anche cercare di creare un'alchimia perfetta anche con il portiere quindi Gatti, Di Gregorio, Bremer, quel triangolo lì che vedremo con il vertice basso quindi in porta e Gatti e Bremer come centrali di destra e di sinistra con Cambiaso che sarà un titolare e con gli altri che ruoteranno con Cabal prima scelta per andare sulla sinistra poi centrocampisti attenzione perché ne abbiamo un pochettino io ho inserito anche Arthur e Pogba all'interno di questa lista mi sembrava giusto farlo dato che comunque sono dei giocatori della Juve vi dico subito che per me Arthur e Pogba non faranno nemmeno una presenza Pogba è squalificato anche se sappiamo che c'è la possibilità di vedere un ricorso eccetera eccetera per me nessuno dei due verrà riaggregato nessuno dei due più c'è Asic che è un aggregato invece della Next Gen alla prima squadra anche se ha preso il numero 17 quindi io mi immagino che sarà un giocatore della prima squadra a tutti gli effetti secondo me Asic farà 10 presenze e un gol esattamente come Danilo verrà un pochettino utilizzato di meno perché c'è tanta tanta concorrenza centrocampo guardate qui quanti centrocampisti sono presenti all'interno della Rosa della Juventus e abbiamo Locatelli che secondo me sarà un giocatore che giocherà tanto 33 presenze sono un buon bottino a maggior ragione con tanta competizione all'interno del reparto con due gol segnati Douglas Lewis 28 presenze e 4 gol secondo me Douglas Lewis giocherà meno di Locatelli come abbiamo già visto in questa prima parte di campionato poi non credo che sarà limitato a questi pezzi di partita perché è un giocatore che è stato acquistato a tanti soldi dalla Juventus e quindi sarà un acquisto che dovrà essere valorizzato quindi non mi aspetto questa stessa gestione di Douglas Lewis come invece me l'aspetto per Danilo mi aspetto che possa entrare nelle rotazioni e diventare un giocatore importante anche in zona gol perché 4 gol comunque per un centrocampista non sono per niente male soprattutto la prima stagione di Serie A Turam però secondo me tra un po' di turnover tra un po' di infortuni dato che non abbiamo ancora ben chiaro per quante altre partite non avremo disposizione Turam arriverà a colestare 30 presenze e segnerà 2 gol abbiamo visto anche nelle amichevoli estive che è comunque un giocatore che ci prova dalla lunga distanza quindi potrebbe essere una soluzione McKennie riaggregato non credo sarà un giocatore importante l'abbiamo visto con la Roma qualche minuto secondo me non ha fatto nemmeno una grandissima prestazione 14 presenze un gol perché nel gioco aero McKennie è sempre molto pericoloso l'anno scorso invece non era riuscito a trovare la via del gol Fagioli 27 presenze e 3 gol io Fagioli e Douglas Lewis li vedo quasi uno in alternativa all'altro secondo me Tiago Motta c'è in testa di scambiare proprio quei due lì con Cobbeners che invece è il titolarissimo e Turam e Locatelli che possano scambiarsi tra di loro questa secondo me è un po' la configurazione che ha in testa Tiago Motta però 27 presenze e 3 gol per Fagioli secondo me e tanta roba degli altri abbiamo già parlato arriviamo a Cobbeners che siccome sarà il vice capocannoniere della Juventus con 31 presenze e 9 gol io sono davvero convinto che Cobbeners possa fare quasi doppia cifra in Serie A per la Juventus c'è arrivato negli ultimi anni con l'Atalanta batteva anche i calci piazzati questa è una cosa da non sottovalutare però Cobbeners credo che possa avere la qualità per raggiungere un traguardo del genere con la Juve perché sono davvero convinto che giocando anche più vicino alla porta perché abbiamo già visto che viene utilizzato nel ruolo che invece aveva fatto Ildis nelle prime partite Cobbeners ha una capacità balistica importante sente anche la porta e chissà che in alcune occasioni non possa addirittura battere qualche calcio piazzato al posto di Vlaovic traduco magari uno si prende rigore uno si prende le punizioni non so chi si prende uno chi si prende l'altro perché Vlaovic comunque qualche rigore l'ha sbagliato come tutti perché i rigori gli sbagli è soltanto che ha il coraggio di tirarli potrebbe battere anche Douglas Lewis potrebbe essere anche lui un'opzione però sono tutti giocatori che anche sul calcio di punizione non sono male cioè con Bener se Vlaovic sono forti a battere le punizioni sono entrambi i mancini lo stesso Douglas Lewis le può battere magari da un'altra posizione quindi attenzione ma la Juve anche dal punto di vista delle soluzioni esterne dei calci piazzati può fare una buona stagione sugli attaccanti vi vado a rivelare tutti insieme anche in questo caso io credo che Vlaovic potrà fare 21 gol cioè superare quota 20 superare quota 20 significa fare una gran stagione quindi ho fiducia nei confronti di Vlaovic anche perché questa è la stagione di Vlaovic traduco è la prima annata in cui è rimesso al centro di un progetto di un contesto tattico non c'è più la scusa del sì però le palle ora tocca a lui ora dipende da lui è al 1 2 terzo anno e mezzo di Juve quindi significa che devi iniziare a dimostrare di essere un attaccante davvero forte da Juve per meritarsi la titolarità della Juventus è un giocatore che entra nel suo 25esimo anno di vita quindi proprio per la sua carriera deve farsi un favore ed è un giocatore che ha un contratto pesantissimo perché è stato fatto a crescere a 12 milioni di euro all'anno eccetera eccetera che deve dimostrare di poterselo meritare non alla Juve perché se l'idea di Vlaovic è guadagnare quelle cifre quest'estate è uno dei primi che parte se l'idea di Vlaovic è rimanere alla Juve allora quei soldi vanno ritrattati le strade comunque sono due Vlaovic sarà un nome caldo se non caldissimo in chiave mercato ma per essere un nome caldo se non caldissimo in chiave mercato e potersi attirare anche delle attenzioni di un certo tipo da parte dei determinati club lui deve fare una stagione di questo tipo da 20 o più gol in Serie A e io sono convinto che Vlaovic la possa fare deve soltanto entrare nell'idea che non deve caricarsi la squadra sulle spalle e risolvere le partite da solo ma affidarsi al gruppo affidarsi alla squadra mettersi a disposizione della squadra se riuscirà a fare questo secondo me farà una grande stagione Nico 30 partite e 7 gol che non è male secondo me 7 gol li può fare Nico a maggior ragione perché credo che lì a destra sarà bene o male lui il titolare poi ci saranno con sé Sau e A che potranno entrare nelle rotazioni sì senza ombra di dubbio però secondo me sarà lui il titolare lì a destra e può essere un giocatore che veramente può fare gol anche lui calciando da fuori sa tante soluzioni anche dalla distanza non ha bisogno di entrare sempre in area tra Cobmeiners Nico Vlaovic Douglas Lewis Turam ci sono tante possibilità di far male anche a delle difese che magari vanno a chiudersi concedendo il tiro dalla lunga distanza con sé Sau invece lo vedo come un giocatore che ti spacca le partite che può subentrare nelle partite bloccate non lo vedo un giocatore da tanti gol infatti ne hanno assegnati tre Milik credo che non giocherà tantissime partite e secondo me Nico farà quei gol perché in assenza di Vlaovic potrebbe essere utilizzato lui come numero 9 e quindi andare a incrementare quel numero di gol quindi Milik io mi aspetto soltanto un paio di gol da parte sua Hildiz è difficile perché non ho ancora capito se è un giocatore che dei gol nelle gambe ne ha o ne ha da far fare quindi immagino che potrebbe fare 5 gol in 35 partite a maggior ragione si è utilizzato come esterno di sinistra quindi partendo da più lontano con la necessità di saltare più uomini per entrare in area di rigore 5 gol secondo me per un esterno sono già un ottimo bottino sarebbe stato diverso vedere Hildiz giocare nella posizione di Cobb Mainers perché è ovvio che se giochi più centrale ha anche più possibilità di calciare più pulito e di fare più gol UEA secondo me 3 gol li può fare uno l'ha già fatto verrà utilizzato un pochettino nei ricambi attenzione che chissà magari UEA potrebbe essere utilizzato anche come terzino destro una volta risistemato dato che poi sugli esterni stiamo iniziando ad essere abbondanti e Bangula 22 presenze e 2 gol uno l'ha già fatto insomma un altro da qui a fine stagione potrebbe farlo tranquillamente quindi ragazzi queste sono le statistiche che secondo me saranno ideali per la Juventus di quest'anno vi dico che sono stato molto fiducioso nei confronti della Juve perché per me segnerà 78 gol e ne subirà 25 stiamo parlando comunque di una differenza rete importante se andate a farvi i conti ma soprattutto se andate a controllare le differenze rete delle Juventus degli anni passati le classifiche degli anni passati le squadre che hanno raggiunto questi numeri degli anni passati andrete a capire da voi che se la Juventus riuscirà a fare una stagione del genere andrà veramente nelle primissime posizioni in Serie A ma io ve l'ho già detto per me la Juventus arriverà seconda dietro l'Inter vi ho fatto la prediction ma non sarei stupito nemmeno di vedere la Juventus campione d'Italia in caso di qualche incastro di qualche tipo io credo che la Juve potrebbe fare tra i 74 75 gli 80 punti io la vedo così la Juventus una squadra che può toccare i 77 78 79 punti una roba di questo tipo però sono curioso anche di sapere la vostra opinione perché poi dipende dalle annate negli ultimi tre anni la Juventus non ha mai fatti quei punti quei 78 punti nell'anno di Pirlo con 78 punti il Napoli è andato in Europa League da quinto quindi dipende molto dalle annate dipende tantissimo da che tipo di annata fanno anche gli avversari noi dobbiamo fare la previsione sulla Juventus noi dobbiamo parlare della Juventus e quindi io vi dico che per me 78 gol fatti 25 subiti e quasi 80 punti si possono fare con la Juve che poi va a classificarsi al secondo posto abbiamo terminato con questo video il ciclo dei contenuti dedicati alle prediction di questa stagione di Serie A ora possiamo soltanto metterci comodi e vedere quante ne azzecchiamo e soprattutto perché ovviamente sarà più facile sbagliarne quante ne sbaglieremo ma giocate insieme a me mettetevi in gioco insieme a me scrivete tutto qui sotto così quando poi l'anno prossimo andiamo a fare la live reaction a quello che era questo video abbiamo la possibilità di ridere dei nostri errori tutti insieme ciao a tutti